Miei cari salva a tutti, benvenuti e soprattutto ben ritrovati qui sul canale, qui su The Zion Theory, io sono ovviamente Spazio ed eccoci con la recensione del quarto episodio di House of the Dragon, un episodio che ha portato delle novità consistenti. Infatti la danza dei draghi apre i battenti in maniera ufficiale, lo scontro ha inizio e d'ora in poi tutte le scelte fatte, tutte le azioni che i nostri protagonisti andranno a compiere avranno delle ripercussioni drastiche, pesanti, importanti sul futuro, diciamo, di Westeros. Per cui da questo momento in poi non si torna indietro, è il classico punto di non ritorno. Lo scontro ufficiale ha quindi inizio, ma insieme a questo conflitto ci sono tutta una serie di riflessioni importanti, insomma di storie e parallele che vanno raccontate in questo quarto episodio e le analizzeremo per bene fra poco. Prima di farlo ragazzi un paio di premesse importanti, la prima è quella ovviamente di iscriversi al canale se non l'avete già fatto, di lasciare un like e un commento, sono dei gesti molto importanti per la crescita del canale. Vi invito anche ad attivare la campanella così che possiate sempre rimanere aggiornati sui contenuti che porto qui su The Zion Theory, sapere quindi ad esempio quando usciranno con esattezza i video dedicati ad House of the Dragon, qui sotto in descrizione trovate anche link se volete venirmi a trovare sui miei profili social. Altra premessa doverosa e importante ragazzi è quella ovviamente di mettervi in guardia da eventuali possibili spoiler, per cui il mio consiglio è sempre quello di vedere prima la puntata e poi tornare in questo stesso punto per proseguire la visione della recensione. Da che cosa possiamo iniziare ragazzi? Sicuramente col dire che finalmente iniziamo ad assaporare un po' il profumo della battaglia, il nostro orizzonte si allarga, eravamo rimasti confinati, questa cosa l'avevo già accennata comunque negli episodi precedenti, eravamo rimasti confinati nelle stanze regali, nei palazzi, nei castelli, murati quasi all'interno di quest'ultimi, e quindi non riuscivamo ad andare altrove, non riuscivamo a posare il nostro sguardo su delle distese, insomma su veri e propri campi di battaglia. In questo caso, grazie anche, si fa per dire, al viaggio, diciamo, al percorso che sta facendo Christon Cole, riusciamo appunto ad allargare un po' il nostro sguardo, il nostro orizzonte, e si comincia a comprendere il fatto che la battaglia sta per iniziare, il conflitto sta per esplodere. Ma al di là del fatto che la battaglia decisiva, questa lotta intestina, questa guerra civile fra Tricida, effettivamente, oramai, ha aperto di fatto le sue porte, ci sono delle considerazioni importanti da fare su determinati personaggi che proseguono comunque nel loro percorso di crescita, di cambiamento, di modifica. Vorrei iniziare quindi a parlare di Daemon. Daemon abbiamo già visto nello scorso episodio, no? che era arrivato ad Arrenol, aveva fatto la conoscenza di Simon Strong, il castellano di Arrenol, ma avevamo anche visto che, vuoi per la reputazione di Arrenol, che è una sorta quasi di castello maledetto, castello fantasma, aveva iniziato ad avere delle visioni, delle percezioni oniriche sul suo futuro, che lo hanno portato un po' a ragionare su se stesso. E questo percorso, questa sorta di viaggio, più che dell'eroe, mi verrebbe da dire dell'anti-eroe, perché Daemon è un po' un anti-eroe, prosegue. Quindi vediamo Daemon alle prese sempre con queste visioni, con questi sogni, fra virgolette, ad occhi aperti, e allo stesso tempo lo vediamo fare la conoscenza di Alice Rivers, che sembra quasi una strega in procinto di preparare qualche pozione quando la vediamo. Per cui questo percorso di Daemon è estremamente interessante, interessante perché, torna a ripetere, lo avevamo già visto nel terzo episodio, ma ci porterà molto probabilmente ad una maturazione di Daemon, a far sì che Daemon probabilmente faccia un po' pace con se stesso, più che con il mondo, no? Con il quale è sempre stato in conflitto. Per cui sicuramente è molto intrigante andare a vedere, anche poter presagire quello che può essere il cambiamento interno di Daemon, quindi il suo carattere, la sua consapevolezza di certe cose. Lo abbiamo visto fare i conti, ad esempio, con il suo essere sempre magari respinto in qualità di sovrano e di re, per un motivo o per un altro, i suoi rapporti con Rhaenyra, eccetera, eccetera. Pertanto sono convinto che si arriverà in questa sorta di viaggio onirico che sta avvivendo Daemon e che lo mette anche sotto gli sguardi un po' dubbiosi dello stesso Simon Strong, lo vediamo appunto nel corso dell'episodio. Sono convinto che però si arriverà a una consapevolezza ulteriore di Daemon e che quindi quest'ultimo ci regalerà delle soddisfazioni importanti per quanto riguarderà il proseguo appunto della serie. Abbiamo menzionato brevemente il fatto che Sir Criston Cole si stia raccogliendo comunque poi intorno a sé tutta una serie di alleanze anche con la Forza, conquistando Roccaforti, Castelli, eccetera, eccetera, e quindi prosegue anche questo percorso di Criston Cole per arrivare più preparato possibile con più alleanze possibili per rimpolpare il suo esercito e quindi vediamo la sua avanzata, un'avanzata molto diretta decisa in cui quest'ultimo insomma non si fa troppi scrupoli lo vediamo ad esempio verso diciamo la metà dell'episodio anche piegare Duskendale e decapitare il Lord appunto di Duskendale. Quindi vediamo un Sir Criston che da una parte porta avanti le, diciamo, gli interessi dei Verdi ma sappiamo anche come Criston in questi episodi si sia diciamo fatto trascinare anche da una sua volontà di rivalsa nei confronti di Rhaenyra e questa è una cosa che va sempre sottolineata perché rimane un po' nel solco di questi personaggi in questi episodi che si stanno facendo un po' travolgere da istinti personali più che da magari un piano a lungo termine quindi Sir Criston Cole rientra, continua a rientrare perfettamente in questa concezione. Molto affascinante secondo me al contempo è vedere come si sta sviluppando e diversificando anche ma più che altro come si stanno evolvendo magari in maniera diversa le personalità di Alicent e Rhaenyra. Infatti da una parte vediamo Alicent praticamente, non dico allo sbando ma che è comunque in uno stato confusionario in cui non sa bene che cosa fare e infatti questa cosa, quel viscido di Larry Strong la sottolinea puntualmente quando si incontrano i due appunto nel corso della puntata. Un Alicent che dopo la rivelazione comunque di Rhaenyra nello scorso, insomma nel finale dello scorso episodio comincia a pensare che tutto quello magari comincia a serpeggiare più che altro nella sua testa che tutto quello che ha fatto finora possa non avere un senso poi alla fine della fiera. Comunque rimane molto dubbiosa infatti tutti i suoi diciamo legami li sta un po' perdendo di vista i suoi figli, il conflitto appunto fra Aegon e Imond il fatto che suo padre non sia più primo cavaliere del re lo stesso rapporto di appunto Alicent con Criston Cole insomma pare che Alicent stia sfuggendo un po' tutto di mano e questa è una cosa che puntualmente Sir Larry Strong fa percepire, fa comprendere ad Alicent. E la cosa più importante di tutto questo qual è? È che Alicent fatica a tenere insieme i suoi figli fatica ad avere un rapporto sincero, affettivo, amoroso insomma mettiamola come ci pare, con i suoi figli cosa che invece non si può dire per Rhaenyra che ha avuto sicuramente delle difficoltà l'abbiamo vista fare fatica comunque a tenere a bada a tenere sotto controllo il suo consiglio insomma, i suoi consiglieri al tavolo di guerra che cominciavano a avere dei dubbi appunto su Rhaenyra lo abbiamo visto nel corso di queste puntate ma del resto abbiamo visto una Rhaenyra che ha sempre avuto comunque al di là di qualche scaramuccia che c'è stata in questo episodio con i figli in particolare con Jace la vediamo però portare sempre tutto ad un'armonia a manifestare il suo amore e si manifesta anche il fatto che comunque i figli di Rhaenyra, in questo caso Jace perché poi gli altri si trovano un po' sparpagliati ovunque in questo caso Jace prova comunque un forte legame nei confronti della madre nonostante qualche guizzo diciamo un po' istintivo da giovane non controllabile comunque prova un affetto sincero nei confronti della madre e questa è una differenza significativa appunto fra Rhaenyra ed Alicent nel complesso questo primo episodio ci fa sicuramente come ho detto all'inizio iniziare a percepire un po' più di dinamismo un po' più di frenesia, di guerra e di battaglia nella prima parte però c'è sempre una fase di preparazione quindi siamo un po' in linea con gli episodi precedenti in cui le cose si facevano con calma tutto ci veniva appunto dispiegato e spiegato con i giusti tempi e anche questa prima parte comunque si prende i propri tempi scusate la ripetizione per poi però arrivare ad una parte finale che invece ci regala grande tensione e grande azione però ecco da sottolineare come la prima parte sia sempre preparatoria per quello che avverrà negli ultimi 20-25 minuti di questo episodio ma prima di arrivare alla parte finale di questa quarta puntata ragazzi vorrei sottolineare al di là di tutti i rapporti personaggi di cui abbiamo già parlato forse il rapporto più importante insomma la relazione più importante che ci ha regalato delle soddisfazioni più significative fino a questo momento ovvero il confronto, il rapporto fra Aegon e Imond che in questo episodio raggiunge un punto di svolta un punto di non ritorno abbiamo visto come il rapporto fra i fratelli fosse scricchiolante soprattutto diciamo a causa di Aegon che nei confronti del fratello era sempre poco affettivo comunque cercava di metterlo sempre un po' in ridicolo lo abbiamo appunto percepito, osservato nell'episodio precedente in cui ci si trovava in un bordello ed Aegon metteva in ridicolo pesantemente Imond che quindi cova e covava questo rancore questa rabbia nei confronti del fratello che si manifesta totalmente in quello che accade in questo episodio per cui questa relazione, questo rapporto fra fratelli fra Aegon e Imond è una cosa che avevamo percepito e assaporato già negli episodi precedenti un qualcosa che sapevamo potesse esplodere da un momento all'altro e si arriva proprio verso il finale in cui Imond in maniera molto machiavelica e strategica approfitta di un errore, se così vogliamo definirlo dettato dall'istinto di Aegon per fare la sua mossa e ne parleremo a breve ma voglio fare un piccolo passo indietro sempre riguardo questo argomento parlando anche di come Imond nel corso del concilio ristretto abbia questa volta messo lui in ridicolo il fratello sottolineando per l'ennesima volta come lui non abbia alcuna voce in capitolo perché lui pensa a tutt'altro pensa alle feste, pensa alle cose frivole al lusso, alla lussuria mentre lui si fa carico di tutto il resto ed è focalizzato su tutt'altro quindi questa volta è stato il turno di Imond di mettere in ridicolo il fratello un Aegon che poi va dalla madre per cercare una sorta di conforto ma anche la stessa Alicent sottolinea un po' quello che gli ha detto gli ha detto Imond in termini magari un po' più lusinghieri e meno duri ovvero che comunque lui non ha interesse per quelli che sono gli eventi della corona, insomma del regno e della guerra in atto per cui poi lui da questa situazione ferito un po' nell'orgoglio decide di cavalcare verso il fronte di guerra un fronte di guerra che è aperto anche definitivamente da Rhaenyra che nel contempo decide di inviare Rhaenys proprio sul campo di battaglia e decide quindi finalmente di rompere gli Indugi dopo il suo dialogo insomma che c'è stato con Alicent ha capito che la pace e l'armonia non sono diciamo perseguibili in questo momento un finale ragazzi che comunque è ben costruito c'è poco da dire la tensione si respira questa battaglia finalmente vediamo sia le truppe la fanteria insomma la cavalleria e quindi cominciamo ripeto a respirare un po' l'aria di guerra di scontro, di conflitto ma vediamo anche i draghi quindi una parte finale carica di tensione una tensione guerresca diciamo che non si respirava dall'ultimo episodio della prima stagione in cui c'era no c'era stato lo scontro fra Luke e Imond proprio nel corso dell'ultimo episodio della prima stagione si ritorna finalmente quindi ad arrivare vi dicevo no la prima parte che prepara questo finale e quindi questo finale carico di tensione ben costruito con un combattimento comunque fra draghi fra Rhaenys inizialmente e Egon veramente ben elaborato e che risulta molto spettacolare a mio modo di vedere si giunge quindi a questo climax narrativo coinvolgente e avvincente in cui per riallacciarmi comunque a quanto detto poco fa Imond fa la sua mossa approfitta dello scontro fra Egon e Rhaenys per far fuori di fatto tutti e due in un colpo solo quindi sottolineiamo ancora una volta la mente machiavellica strategica cinica e fredda di Imond con un Christon Cole che assiste inerme a quello che appunto sta accadendo e che forse nel finale quando si affaccia per vedere come sta diciamo Egon e non si capisce se sia morto oppure no a differenza di Rhaenys che purtroppo ci lascia vediamo un Sir Christon che invece probabilmente comincia a fare anche lui un po' i conti con se stesso forse è stato troppo istintivo questa sua voglia di vendetta lo sta portando e spingendo un po' troppo in là lo vediamo appunto molto scosso da quello che è appena accaduto insomma ragazzi possiamo dirlo finalmente abbiamo respirato un po' quel sapore epico di battaglia che ci mancava quel pathos e quell'epica appunto cavalleresca che comunque fa parte è nelle corde del trono di spade di House of the Dragon eccetera eccetera nelle corde di Martin l'abbiamo finalmente percepita ma si doveva arrivare a questo punto e finalmente pare che ci siamo insomma non si torna più indietro un episodio che quindi sicuramente almeno per quanto mi riguarda è stato convincente perché ha saputo prendersi il suo tempo nella prima parte ha saputo come sempre andarci a descrivere le varie storyline che ci sono e continuano ad esserci in questa seconda stagione per arrivare ad uno scontro finale comunque carico di tensione molto avvincente ben diciamo coreografato mettiamola in questi termini e anche pensato nello scontro fra draghi e cominciano a quanto pare ad esserci anche le prime perdite pesanti detto ciò ragazzi fatemi sapere voi cosa ne pensate di questo quarto episodio della seconda stagione di House of the Dragon aspetto i vostri commenti qui sotto noi ci vediamo ragazzi domani in live per continuare a parlare del quarto episodio di House of the Dragon per cui non mancate non mi resta a questo punto che salutarvi un abbraccio a tutti voi da spazio un abbraccio a tutti i nostri